Le agonizzanti carcasse dei vecchi semafori in disuso che spenzolavano tristemente dai loro sostegni, da dove un tempo quali inflessibili controllori del traffico ordinavano la circolazione, non ci sono più. A loro, gratitudine per il servizio prestato e una decorosa mandata in pensione. L'amministrazione ha provveduto a ridare decoro alla città in quei punti, dopo alcune osservazioni di esponenti politici e di nostri servizi che hanno palesemente mostrato la triste fine di questi silenti ma utili servitori del traffico. Anche la paleria dei segnalatori di passaggi pedonali ai quali maldestri e superficiali operatori dei trasporti eccezionali avevano regalato posizionamenti assai fantasiosi in mezzo alla liscia, infrattati tra le fronde degli alberi, paralleli alla strada. Sono stati giustamente ricollocati. Siamo intervenuti con una cifra intorno ai 20.000 euro a sistemare alcune situazioni. Ovviamente l'abbiamo inteso come primo stralcio di un'operazione che ovviamente ci impegnerà ai prossimi anni per sistemare tutti i semafori che sono stati lasciati in eredità a questa amministrazione e che non sono più funzionanti da diversi anni. Sì, siamo intervenuti quindi a cambiare e smontare le palline e le lanterne non più utilizzate in via Negusanti, appunto in crocio con via Le Gramsci, in via Le Buozzi, in crocio con via Roma e anche in via Palazzi dove si è sostituito appunto le lanterne che erano vecchie e che non erano più funzionanti. Sono stati anche riposizionati portali che servono, gli sbracci che servono per fare gli attraversamenti pedonali nelle vie principali della città e abbiamo anche, d'accordo con i vigili urbani, potenzieremo anche il controllo perché soprattutto di notte ci sono, e la gente non li vede giustamente, diversi trasporti eccezionali che passano di notte per non recare danno al traffico, i cui operai spostano appunto queste palline per cui ovviamente intensificheremo i controlli dopo ogni trasporto eccezionale. Grazie Grazie Grazie